La puzza, ti fa male la roba? No, ma già... Quello era quello che ha raccolto alla mia amica Sardegna La mia casa è... Nero? Nero? Adesso ho passato Così viene tutto nero, ovviamente Questa era stamattina 11 tanti Metto le ore, metto la data, metto tutto No, quello è nero, qui lo si deposita Non era corretto No, poi c'era... Stamattina, no, magari Questa era alle 8 stamattina Incominciavo i fumetti marrone E venire su dal... Sopra la zona dell'alto forno Questa era la torcia alle 12.25 Perché tutto... Orari Però sono specializzati in interrogamenti Ha detto qualcuno Sono arrivati a minacce, si Ma sicuramente Ma sicuramente, guardi Mi toglierai le rughe, è la prima roba Farei tutti belli Farei tutti belli Magari Siete bellissimi Siete bellissimi Grazie Grazie all'ospitalità Bocca all'uso Noi siamo a distruzione Ho avuto anche il dossier Bene, quello è importante Ci sentiremo Sì, arrivederci Sì, arrivederci Arrivederci Grazie 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 Grazie